La mountain bike torna protagonista in Molise grazie al secondo trofeo Sant'Emidio XC MTB Race. La prima prova del campionato regionale Specialità Cross andrà in scena nell'affascinante scenario di Monteverde di Boiano domani, con partenza prevista alle ore 10 nel piazzale della Chiesa Madre di Sant'Emidio. L'associazione matese mountain bike si è impegnata nuovamente nella riuscita di un evento che unisce gli amanti della natura, dato che il percorso si immerge nei boschi, ed è la bike inteso come sport tecnico e anche di forte socializzazione. La lunghezza del percorso è di 5 km, ripetuti per 5 volte, con un dislivello per giro di 180 metri per un totale di 900 metri. Alla Kermes parteciperanno naturalmente molti atleti molisani, in premissa Andrea Cardillo della Bike Store Isernia che ha raggiunto il podio d'argento nella Marathon Lazio, ma oltre a lui ci saranno anche Stefano Altieri e Cristian Giura della Sessan Bike. A loro si aggiungono Emiliano Lombardi, Luciano Boianelli e Marco Di Geronimo. Il trofeo andrà a toccare anche le regioni vicine al Molise, con sportivi provenienti dall'Abruzzo, tra questi Fabio Marino, l'anno scorso quarto assoluto, mentre sarà assente il vincitore della prima edizione, il comasco Francesco Fignini. Naturalmente i fari sono puntati anche sull'ormai famosa curva del fiasco, che con tanto fiato sosterrà gli atleti durante l'intero percorso.